Ciao a tutti e bentornati su Starlet's Tube, io sono Sara e oggi sono qui per parlarvi del nuovo episodio di The Last of Us che è andato in streaming, diciamo, in onda, in anticipo perché in America è stato trasmesso venerdì, perché domenica c'è stato il Super Bowl mentre da noi è stato disponibile in streaming solamente sullo Sky On Demand e su NowTV quindi non è andato in onda, non è andato in diretta, ma l'hanno messo semplicemente in streaming sabato alle 3 di notte su Sky On Demand e su NowTV invece sicuramente sarà andato in onda poi in diretta, io sto guardando questo video di lunedì sera come sempre perché nonostante tutto ho deciso di uppare il video comunque a lunedì per evitare appunto, essendo che alle 3 di notte o comunque in diretta l'hanno trasmesso stanotta alle 3 per evitare problemi, mi sono detta io lo tengo comunque il lunedì perché ormai il lunedì è il giorno dedicato a questa serie e devo dire che anche questo quinto episodio, porca troia, mi è piaciuto tantissimo questa serie sta mantenendo un livello altissimo non solo di fedeltà ma anche di trama, di cast e soprattutto in questo episodio veramente ragazzi non sono mancati i momenti da cardiopalma, soprattutto verso la fine ma adesso ne parliamo, accingiamoci a parlare del quinto episodio di The Last of Us in questo episodio abbiamo modo di conoscere due personaggi che nel gioco erano veramente molto importanti ovvero Harry e Sam se vi ricordate nello scorso episodio avevamo capito che Harry aveva fatto qualcosa che aveva fatto incazzare parecchio questa Caitlyn che è un nuovo personaggio ed è a capo di questa banda, diciamo di questo esercito che ha praticamente, lo scopriamo in questo episodio conquistato Kansas City, mi sono ricordata dove erano arrivati Joel e Ellie cosa che non mi ero ricordata appunto nello scorso episodio come l'abbiano liberati dalla Fedra perché la Fedra lì era veramente bastarda erano veramente dei figli di puttana e vediamo appunto come questo personaggio Caitlyn sia in preda alla voglia di vendetta perché dico questo? perché tra tutte le questioni che ci sono in sospeso ci è andato di mezzo anche il fratello scopriamo inoltre che c'era un meccanismo dentro queste comunità con la Fedra al comando ovvero i collaborazionisti, quelli che praticamente facevano la spia alla Fedra su persone che agivano in maniera non conforme alle regole o comunque illegale in cambio di qualcosa, i disperati in pratica, i disperati o comunque i benefreghisti ecco si possono chiamare così e Caitlyn osserva molto lancore verso queste persone e diciamo anche giustamente però c'è il rovescio della medaglia ragazzi perché alla fine la responsabile di tutto era la Fedra perché è con il loro regime dittatoriale quasi da fascista che la gente si è ridotta in questo modo e il mondo è andato anche a scatafascio non è stato solo il fungo, ecco questo adattamento diciamo cinematografico come televisivo ecco ci mostra effettivamente come non sia effettivamente il fungo ad aver provocato la fine del mondo quanto le persone stesse e quindi di conseguenza questo personaggio che ho dettato questa attrice Melanie Linksey è veramente brava secondo me è stata molto brava lo incarna perfettamente Caitlyn è la rappresentazione di come le persone vogliono vivere libere però non hanno paura a sporcarsi le mani a farlo per quanto molto spesso i metodi siano sbagliati naturalmente qui appunto conosciamo Harry e Sam e qui hanno fatto un cambiamento che per carità non è assolutamente da criticare ovvero che hanno reso Sam sordo muto ormai si sa la fanno questa cosa e più la fanno meglio è io ho sempre paura che purtroppo stia magari diventando una moda però sono sempre più convinta che la comunità dei sordomuti abbia sempre bisogno di supporto e di visibilità quindi se una serie del calibro di The Last of Us lo può fare mi va anche bene scopriamo appunto siamo anche un po' indietro rispetto mi è dato tutto circa dieci giorni prima dell'arrivo di Joel e Delia a Kansas City in cui c'era il medico appunto interrogato da Caitlin nello scorso episodio che ha nascosto effettivamente i due ragazzi e vediamo come effettivamente poi loro si incontrino con Joel e Delia ma vediamo soprattutto il rapporto che li lega cosa che nel gioco purtroppo non era possibile perché avveniva il tutto nel bel mezzo dello scontro di Joel e Delia con i cacciatori quindi si incontravano di botto nel pieno del conflitto quindi non è che abbiamo avuto tanto tempo per approfondire il rapporto tra R e Sam quindi qua lo Zeonail e Amazing si prendono appunto il tempo di approfondire il rapporto da questi due fratelli di quanto sono uniti e di quanto appunto cerchino di sopravvivere nonostante appunto siano braccati da questo esercito che li vuole morti per diciamo delle ragioni sbagliate ma non ma adesso ci arriviamo è un po' complicato da spiegare senza fare spoiler alla fine appunto arriviamo alla scena che ha concluso lo scorso episodio ovvero Harry e Sam che puntano le armi a Joel e Delia che si erano rifugiati su un edificio alto aspettando il giorno per poter vedere la città e capire come fuggire e qui capiamo appunto come Harry in realtà non voglia fare del male a Joel e Delia ma abbia visto effettivamente come Joel si è comportato e come agisce e ha capito che lui potrebbe essere la speranza di loro due di poter scappare dalla città da una parte abbiamo Joel dal grilletto facile ed Harry che conosce la strada quindi la combo perfetta quindi di conseguenza decidono di passare dai tunnel e questa cosa c'è anche nel gioco perché comunque hanno tolto le fogne hanno messo queste gallerie hanno tagliato parecchio perché la parte nelle fogne dura tantissime ma non potevano perdere un sacco di tempo contra clicker e cose varie per quanto mi sarebbe piaciuto però va bene anche così hanno preso il necessario perché comunque a un certo punto arrivano in questa zona in cui si vede chiaramente che c'erano dei bambini e questa cosa c'era anche nelle fogne nel gioco quindi il disegno con i nostri protettori io lì lacrimuccia cioè ciao era veramente la stessa mia razione del gioco vediamo appunto Ellie e Sam a cominciare a fare amicizie cercare di capirsi infatti Harry ha questa lavagnetta in cui cancella e scrive cancella e scrive per farsi capire da chi appunto non conosce il linguaggio dei segni e vediamo appunto come loro leghino perché comunque sono due ragazzini e vediamo appunto come Joel cerca di capire perché un collaborazionista stia agendo in questo modo e qui scopriamo che appunto la Fedra lo aveva messo talmente alle strette che è stato costretto a tradire una persona che stimava quindi ti fa capire come veramente sia l'uomo quasi il vero nemico e lo so questo richiama The Walking Dead ma ragazzi qui anche nel gioco ragazzi era così e il gioco è uscito quasi in concomitanza con The Walking Dead The Walking Dead è uscito nel 2010 e The Last of Us nel 2013 solo che nel gioco, anzi nella serie scusate la stanno enfatizzando un po' di più a livello di trama e quindi tutti subito a vedere i paragoni no ragazzi non mettiamole proprio a confronto perché non si può per quanto io abbia nel cuore The Walking Dead purtroppo gli spiscia casa The Last of Us mi dispiace a livello di sceneggiatura, a livello anche di trame e quant'altro mi dispiace ma The Last of Us in questo caso anche la serie è superiore mi dispiace comunque dirlo forse avreste potuto fare questo paragone con il The Walking Dead dei bei tempi ma non con quello attuale, proprio assolutamente no ci tengo a ripetere perché nei commenti mi stanno arrivando tantissimi e se ma The Walking Dead no, no, no non c'entra un cazzo The Walking Dead con The Last of Us proprio niente forse che poi il post apocalittico alla fine è un agglomerato è un po' come dire The Walking Dead è copiato da Romero ma Romero ha creato il genere cinematografico zombiesco post apocalittico quindi se proprio vogliamo dirla tutta è tutto copiato da Romero se proprio vogliamo dirla tutta non voglio fare questo discorso qui perché è come sparare sulla croce rossa comunque sia i tre e poi i quattro anzi alla fine riescono a trovare un passaggio che poi c'è anche la parte della banca non me l'ho detto per entrare nelle fogne quella banca madonna quanto tempo ci ho perso con quelli che mi sparano e abbiamo anche modo di conoscere il personaggio di Caitlyn di capire il suo legame appunto con il fratello che ha perso il perché stia soffrendo così tanto e c'è appunto anche quest'uomo che credo che sia un personaggio dei videogiochi però non ho ben capito chi è ragazzi che appunto l'ha con fuori dicendo lui era un grande uomo tutti gli volevamo bene ma lui non ha cambiato le cose tu sì perché il fratello era un pacifista perdonava ed era intelligente mentre lei è quella sanguinaria è quella col grilletto facile e che però ha cambiato le cose massacrando chiunque eh vedete è questo che ci vuole dire questa serie che in un mondo post apocalittico governato da una forza militare che ti stupra ti uccide ti ruba e ti ammazza quando ti capita l'occasione rispondi per le rime non stai lì a perdonarli eh mi spiace ma è così purtroppo è la dura realtà dell'essere umano soprattutto in un mondo come come quello di The Last of Us comunque sia eh i tre alla fine escono e io qua ho pianto lacrimi di gioia perché arrivano appunto in questa zona piena di macchine però in notte nel gioco succedeva di giorno e c'erano i cacciatori eh c'erano più cacciatori non ce n'era solo uno comunque c'è lo spiazzo con tutte le auto e la villa che è fottutamente uguale quella del gioco anche se è buio era fottutamente uguale con il cecchino che li tiene sottotiro e con gioia che in quel caso lo dovevi manovrare tu in questo caso Pedro Pascal fa da solo che entra nella casa fa fuori il cecchino e scopre eh che era anche lui un cacciatore e dalla radio che stanno arrivando i rinforzi porca troia eh e quindi le conseguenze devono sbrigarsi a scappare ma cosa succede? intanto c'è questo questa corsa veramente pazzesca con questi con questo autoblindo tipo spazzaneve che sfonda chiunque sta per investire i ragazzi ma Joel nonostante comunque anche nel gioco Joel non è che ha una mira da cecchino è proprio quella poi di prendere dal giocatore io per esempio non c'ho pena riesce poi è buio c'è poca luce riesce dopo diversi tentativi a sparare al conducente che finisce in questo edificio e Catherine sembra avere in pugno la situazione perché cerca di spiegare a Harry devo farlo purtroppo devo essere così tu dovevi lasciare morire tuo fratello era più giusto così non pensi i bambini muoiono in continuazione sì però se tu fossi stata al suo posto cosa ecco il punto è questo è che molto spesso non ci si mette nei panni dell'altra persona non lo si fa purtroppo Catherine non l'ha fatto non si è messo non si è messa nei panni di Harry cosa avrebbe fatto se fosse stato Michael perché si chiamava così il fratello nella sua situazione non si è proprio messa nei panni non gli rifiuga proprio un cazzo di niente ma qui c'è la parte adrenalinica quella che io aspettavo tantissimo ovvero lo spazzanede chiamiamolo così che affonda nel terreno perché la fedra aveva spostato aveva ma diciamo si è spostato possiamo dire così tutti gli infetti nelle fognature che però Joel e Joel e company non hanno incontrato e da questa voragine esce fuori una miriade di infetti di clicker e chi più ne ha più ne metta che cominciano a fare strage giustamente ci vanno di mezzo anche Ellie e due ragazzi Joel che cerca che poi la cosa bellissima poi di questo episodio è vedere come ormai Joel ed Ellie comunichino anche senza essere vicini cioè basta che basta un'azione un movimento uno sguardo e loro capiscono l'uno le intenzioni dell'altro è fantastica questa cosa è veramente l'apoteosi della nascita del rapporto tra i due che sarà come ho detto importantissimo non vedo l'ora di vederle le volverse perché mancano quattro episodi ma già qui abbiamo visto come lo stiano già concretizzando ed è fantastico e poi il momento che aspettavo con più ansia in assoluto l'arrivo del bloter perfetto questa questa bestione che esce dalla voragine circondato dagli altri clicker e che fa pezzi stacca testa e massacra una sbudella proprio quello che poi è fatto fottutamente bene si vede che la HBO ha i soldi e li investe e li investe bene porco giusto perché è fatto dannatamente bene come nel gioco anzi forse mi ha messo più caga questo bloter che è quello del gioco che stacca testa e a tutt'andare i quattro finalmente riescono a scappare ma arriva Katelyn che gli punta la pistola ma arriva una bella clickerina che se la mangia e tutto quanto poi qui hanno spostato la cosa invece di essere in un edificio hanno messo un motel va bene ci sta in cui vediamo appunto Joel e Harry diciamo fare un po' di conversazione e proporre anche come succedeva nel gioco di andare in Wyoming con loro perché vi ricordo che Joel ed Ellie sono in viaggio verso Wyoming per raggiungere Tommy e capire se è nei guai e vediamo appunto qui hanno fatto un cambiamento un cambiamento veramente importante tra Ellie e Sam perché appunto Sam comunque le fa la domanda che era nel gioco hai mai paura lei ho paura di scorpioni e tutto il resto poi lei gli dice ho paura di rimanere sola e lui poi le fa questa domanda quando ti trasformi in quei cose rimani te stesso dentro e qui appunto cambiamento lui mostra il morso ad Ellie Sam perché nel gioco vi ricordate Sam era stato morso alla gamba però non lo mostrava a Ellie nel gioco qui invece glielo mostra e Ellie forse per rincurarlo forse non so neanche perché effettivamente abbia fatto questa cosa si taglia la mano senza sentire dolore Kal-El nelle sue storie si ha fatto notare come la mano è quello che è l'arto che ha più terminazioni nervose io se mi faccio un taglietto qua con la carta lo sento da Dio come cazzo fai a tagliarti il palmo io già sono a fare con lunghietti io sono a fare così sto male ma stiamo scherzando questa si taglia il palmo della mano il mio sangue e la cura che poi non è vero lei non lo sa qual è la cura forse era un modo per dargli speranza per confortarlo prima della fine gli mette il sangue sulla ferita tanto lei è immune quindi non può infettarsi più di così lui gli chiede di restare sveglia con lui lei dice di sì però poi vediamo che lei si è addormentata vediamo Sam seduto sul bordo del letto lei che gli si avvicina e questo è più o meno uguale al gioco ovvero nel gioco lei lo andava a chiamare e lui era in piedi vediamo Sam trasformato che le salta addosso cerca di ucciderla e vediamo appunto come Harry gli dia il colpo di grazia questa scena è proprio come nel gioco ovvero Joy che vuole intervenire Harry che gli punta la pistola e poi spara lui stesso al fratellino e esce fuori di testa praticamente in un secondo perché capisce quello che ha fatto capisce che poi alla fine è stato tutto inutile perché lui alla fine il fratellino lo aveva fatto tutto per il fratello e il fratello alla fine è morto perché è rimasto infettato durante l'attacco dei clicker lì nel parcheggio e si toglie la vita ecco questa è stata una delle scene più strazianti del gioco e devo dire che l'hanno resa bene anche qui per quanto forse in questa nella serie l'abbiano un ciccinino velocizzata però funziona funziona è comunque veramente straziante anche se io avrei messo in sottofondo la musica di Gustavo Santano Hall non capisco perché non ce l'abbiano messa sarebbe stato perfetto i due seppelliscono i corpi e partono appunto di nuovo infatti Ellie gli chiede dov'è l'Ovest e Joey glielo indica Joey guarda la tomba dei due ragazzi Ellie che ha lasciato la lavagnetta di Eric con su scritto mi dispiace e i due riprendono il loro viaggio e niente ragazzi questa serie sta continuando a mantenere un livello altissimo sto adorando veramente tutto da amante del gioco io sto adorando ogni cosa per adesso non c'è una puntata che non mi abbia convinto io poi probabilmente sarò quella che la guarda forse con troppa enfasi ma io ragazzi poi diciamo che sono anche quella che sta rimanendo con i piedi per terra perché io sono sempre sul chi va là ogni volta che vedo un episodio chi vede un episodio non penso già che mi ritroverò oro colato ho sempre comunque i dubbi all'inizio di ogni episodio sempre immancabilmente sempre possono ciccare da un momento all'altro ed è questa la mia paura ma spero ovviamente che non succeda non succede ma se succede mi potrei anche incazzare perché stanno andando veramente bene come ho detto questa storia questa serie è una fottuta extender version del gioco lo zionale lo continuerà a ribadire è così si sta prendendo il tempo di raccontarci delle storie che nel gioco non ha potuto raccontarci e sta adattando le backstories del gioco a livello di serie tv in maniera ineccepibile come la questione dei cacciatori adesso dovremmo vedere sicuramente adesso comparirà David probabilmente magari magari scopriamo che era il marito di Caitlin oddio aiuto allora vuole fare una strage vedremo ma abbiamo ancora non so se metteranno la parte del college in cui Joanna sta ferito non sappiamo se metteranno la parte con Tommy e la moglie perché Tommy nel gioco si sposa e tutto il quanto ha un suo insediamento non lo so sinceramente adesso come gestire adesso adesso è tutto un punto interrogativo perché comunque i cambiamenti ci sono ma sono funzionali perché mantengono comunque l'atmosfera del gioco e anche la storia aggiungendoci però delle storie in più e anche delle backstories originali che vanno a unirsi a creare un unico agglomerato che funziona alla grande quindi ragazzi che altro vi devo dire io sto adorando questa serie sto adorando ogni cosa non vedo l'ora veramente che sia lunedì perché adesso non questo lunedì adesso dobbiamo aspettare lunedì prossimo il nuovo episodio quindi non questo questo lunedì va in onda ufficialmente il quinto quello di cui vi sto parlando oggi cioè lunedì poi lunedì prossimo ci sarà il nuovo episodio quindi di conseguenza dobbiamo aspettare comunque sempre una settimana e non vedo l'ora sono veramente curioso anche perché non ho visto neanche il trailer vi dirò che non ho visto non ho visto niente non so neanche se è uscito effettivamente il trailer del sesto episodio ma io sto cercando di non guardarli li guardo verso la fine della settimana giusto per capire cosa mi troverò davanti quindi io sto adorando tutto sto adorando Pedro Pascal neppanelli Joy sto adorando la Ellie di Bella Ramsey ho adorato i due ragazzi che hanno interpretato Sam e Harry sono stati veramente bravi e poi vabbè devo dire che poi a livello di di tecnica di quanto non si può dire niente cioè l'attacco l'attacco la lorda che esce dalla voragine di clicker e quant'altro il bloater veramente c'è non si può dire assolutamente niente questa serie sta continuando a mantenere un livello altissimo e spero davvero che continui così perché se dovessero ciccare adesso a quattro episodi dalla fine no non a qua si a quattro episodi scusate ho fatto già confusione mi potrei veramente il mio cuore si potrebbe veramente spezzare ragazzi non sto scherzando veramente bene anche questo video a tema della stovasa si conclude qui io spero che vi sia piaciuto come spero che vi piaccia la mia maglietta proprio a tema che metterò per il resto della serie sarà questa la maglietta ufficiale del lunedì proprio a tema della stovasa guardate che meraviglia la potete trovare sul sito di pampling link in descrizione e approfittatene perché questi sono gli ultimissimi giorni di saldo in cui potete trovare tantissime magliette e anche questa scontate da 7,99 a 10,99 ma anche tantissimi altri articoli scontati quindi mi raccomando andate sotto in descrizione c'è il link di pampling e vi ricordo come sempre che se aggiungete un paio di calze al vostro ordine utilizzando il mio codice sconto star 86 scusate comunque scritto qui le calze non le pagate quindi approfittatene perché poi le magliette torneranno tutte a costare sui 15 euro quindi poi siamo anche su San Valentino quindi dai se volete fare un bel regalo al vostro ragazzo alla vostra ragazza nerd questa maglietta magari che stavano nell'altro vaso questa maglietta è assolutamente perfetta vi ricordo poi come sempre che se volete farmi sapere se questo video vi è piaciuto dovete andare qua sotto dove c'è il pollice in su e mettermi un bel like ma soprattutto vi ricordo che se volete sostenermi dovete iscrivervi al canale seguirvi su Instagram su TikTok seguite anche la pagina Facebook tutti i link è nell'info box ma soprattutto ricordatevi di cliccare sulla campanella per attivare le notifiche e non perdervi nessun nuovo video ma soprattutto ragazzi ricordatevi di commentare perché i vostri commenti non solo quando sono belli costruttivi divertenti mi fanno un sacco piacere perché ragazzi vi leggo tutti ma soprattutto i commenti aiutano l'algoritmo a spingere il video quindi a farlo vedere a più persone aumenterà le visualizzazioni quindi mi sostenete anche in questo modo io poi voglio anche capire un momento dove trovate tutti questi paragoni con The Walking Dead sinceramente fatemelo capire in maniera educata perché io veramente non sto capendo io sto cercando poi anche di togliermela dalla testa finché non arrivano gli spin off e The Walking Dead non ci voglio più pensare perché è stata una delusione totale mi dispiace le ultime stagioni hanno fatto schifo alla merda e si spin off anche non hanno fottuto lo stesso resistere ma le guarderò perché sono curiosa e fatemi sapere insomma cosa avete pensato dell'episodio se vi è piaciuto cosa vi è piaciuto se non vi è piaciuto perché non vi è piaciuto fatemi sapere la vostra opinione le vostre idee in maniere belle e intelligenti che sempre mi piace mi raccomando io vi leggo tutti ragazzi vi mando un bacione enorme e noi ci rivediamo a lunedì prossimo con un nuovo video a tema della Stovaz e in settimana con tutti i nuovi video ciao a tutti